buone così? sì 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 bello hanno mangiato il belgio sì sì belgio belgio hanno hanno cambiato il logo pure bravo grazie 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 bravo 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 bra bella Simone, bravissimo sta mutato a te ho spinto, ho spinto a te 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 ho spinto pensavo che andava su c'era spazio no, è colto mio è colto mio vai tranquillo sono vicino ok 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 bello 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 questo passaggio non era semplice voleva andarmi vero sì pensavo andassi poi all'ultimo lo so quando ti sei fermato così tanto a pensare ho capito poi c'era anche spazio volendo perché sono molto alti però sì 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 Oh, che c'è? Triangolo? Un po' più dietro? Un po' più dietro. 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 Buona, 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 buona. Peppe. Un po' più dietro. Grazie. Io mi saluto. devo andare. dove vai, dove vai. che viaggia in cucina. un po' più dietro. io ero in cucina. Wolf ha tirato. un po' più dietro. esatto, esatto. esatto, esatto.